Buon anno a tutti quanti, buon Natale a tutti quanti. Aduvidia vuole farvi il suo augurio particolare. Impegnarsi tutti insieme per cambiare le piccole e le grandi cose vale sempre la pena. Questo è il nostro augurio per il 2020, che tutti possano sentirsi protagonisti per un domani con più ambiente, più diritti, più uguagliata. Buon Natale e splendido 2020! Buon Natale e buon Natale, buon Natale, buon Natale e buon Natale a Ciole Valdoterni! Grazie a tutti! Buon Natale!